Ad oltre un anno dalla chiusura non sembrano esserci novità sulla questione relativa a Cerelandia e il parco giochi di Cerveteri. Lo scorso agosto l'amministrazione aveva annunciato di aver inoltrato tramite l'ufficio finanziario del comune una richiesta di rilascio di mutuo per un importo di 150.000 euro. Si trattava di una cifra utile per comprare gli arredi dell'area e per la riqualifica del parco Borsellino. Nulla di tutto ciò però è accaduto. Oggi Cerelandia risulta ancora una terra desolata e la zona dedicata a Paolo Borsellino non ha ancora usufruito dell'annunciata ristrutturazione. Stiamo lavorando su entrambe le location e il piccolo ritardo sui tempi è dovuto semplicemente al fatto che relativamente all'erogazione del mutuo c'è stata chiesta in itinere una integrazione alla documentazione. A dichiararlo Elena Gubetti, assessore all'organizzazione tutela del territorio, che poi conclude. Come ovvio questo fatto ha rallentato l'iter che comunque è già ripreso e stiamo perfezionando l'attività finalizzata alla procedura per l'acquisto dei beni necessari alle operazioni di recupero.